Ciao a tutti, sono Daniel, uno studente dell'italico. E io sono Daria, anch'io una studentessa del Silvio Italico, nella stessa classe di Daniel. E andiamo allo sperimentale. E oggi siamo qui per farvi conoscere la scuola. Le materie non si studiano, ma si vivono. All'inizio non sapevo cosa aspettarli. Ero preoccupato, ma poi mi sono provato bene. Le materie, sì, sono un pochino più difficili di quelle delle elementari, ma non chissà quante. E facciamo ricerche interessanti. Noi, qui, facciamo molti laboratori interessanti e divertenti. E ci stiamo trovando con la DAD molto bene, anche se a distanza. Ma cos'è questo rumore? Ciao, è poco andrò al più comandato e un po' di paura. I professori sono mica cattivi, ascoltano e compendono. Grazieee! Il Silvio Italico, tutte le note trovano il loro posto nel pentagramma. Ora è tempo di andare. Noi non siamo qui e vi aspettiamo. Attività e progetti Delle classi a tempo prolungato Della scuola secondaria di primo grado Silio Italico Due pomeriggi a settimana Professori e alunni svolgono progetti e attività di recupero e rinforzo Le attività sono tante Approfondimenti di temi trattati nelle diverse materie O progetti riguardanti l'attualità Le scienze, la geografia e tanto altro Dibattiti che si concludono con la creazione di blog, siti, presentazioni e mappe Uno tra i temi trattati è quello dell'adolescenza Che prima abbiamo analizzato dal punto di vista scientifico Trattando il sistema endocrino e tutti i cambiamenti che avvengono nel nostro corpo Poi è stato analizzato anche dal punto di vista emotivo Abbiamo trattato l'adolescenza anche dal punto di vista emotivo E abbiamo parlato di come il nostro cambiamento sia molto simile a quello che un bruco affronta Per diventare una farfalla Con la creazione di temi e presentazioni Per l'amicizia anche abbiamo creato vari temi e presentazioni E sull'importanza che essa ha nella nostra vita Altro tema trattato è quello dell'alimentazione E dei problemi che derivano da un'alimentazione sbagliata Abbiamo creato siti web e blog Tanti e tanti sono i nostri progetti Il tempo non è mai abbastanza Perché quando si lavora insieme Confrontandosi e imparando Divertendosi Il tempo vola Grazie per la vostra attenzione Dagli alunni della Scuola Media Siloetalico è tutto Vi aspettiamo il prossimo anno Non mancate!